Inizieremo con Giulio De Angeli, studente dell'Università di Pisa, studente di medicina dell'Università di Pisa e parallelamente della Scuola Superiore Sant'Anna, che ci illustrerà un ambito strettamente scientifico, strettamente neuroscientifico, possiamo dire, in modo tale da spiegarci come il cervello in verità potrebbe essere un modello per insegnare le macchine ad apprendere. In particolar modo si parlerà di hippocampo, quindi una parte del cervello assolutamente importante per la memoria soprattutto. Direi di iniziare proprio con Giulio De Angeli con la sua presentazione in ambito neuroscientifico. Buongiorno, allora io ringrazio innanzitutto la Scuola Superiore di Torino e i ragazzi del Comitato Organizzativo che hanno fatto un lavoro eccellente. Allora, io sono qui per parlarvi dell'ippocampo e in particolare di un meccanismo fisiologico all'interno dell'ippocampo che si chiama Sharp Wave Ripple, che può essere utilizzato come un modello per future macchine, per il machine learning. Innanzitutto va detto che la natura ha da sempre condizionato le invenzioni umane e molte appunto invenzioni sono frutto di imitazioni, quindi di entità di tipo naturale. E perché non sfruttare il cervello, la macchina più complessa che conosciamo, come un modello per i nostri computer? Beh, innanzitutto va detto che il cervello ha un modo tutto suo di processare l'informazione e di salvarla. Nella fattispecie l'ippocampo è una struttura fondamentale, perché quando la memoria viene immagazzinata viene dapprima salvata in una forma temporanea, che poi viene processata ripetutamente dall'ippocampo e questo processamento serve proprio per salvare la memoria nella sua forma definitiva, nella neocortecia. Innanzitutto, che cos'è l'ippocampo? Io mi avvalgo qui di questo modello che adesso farò passare fra il pubblico. Allora, l'ippocampo ve l'ho segnato con una targhetta gialla che troverete smontando. L'ippocampo, come vedete, si trova nel lobo temporale mediale e sostanzialmente se vedete i vari lobi colorati con vari colori è il lobo temporale, quello giallo, quello più giallo-verdino. L'ippocampo è semplicemente una invaginazione della corteccia del lobo temporale al suo interno, quindi è una struttura mediale, prossima al piano intermedio, il piano sagittale mediano. In sostanza il cervello crescendo lateralmente come superficie corticale ha fatto invaginare questa struttura che quindi avrà assunto questa forma ricciolo all'interno, medialmente, nel lobo temporale, ed onde tra l'altro il nome è ipocampo perché ricorda il profilo per l'appunto di un cavalluccio marino. L'ippocampo è fondamentale per la memoria, per fissare la memoria. Cerchiamo di capire come fa a espletare questa funzione. Intanto va detto che anatomicamente l'ippocampo ha una struttura con un input, una stazione di processamento e un output, quindi l'informazione entra e esce. Detto questo, possiamo analizzarla più nel dettaglio perché quando viene passata attraverso la stazione di processamento, l'informazione attraversa una rete di neuroni piramidali, cioè neuroni grossi e eccitatori, glutammatergici, che quindi passano un'informazione secondo un ordine ben preciso e con una collocazione anatomica altrettanto precisa. Fra i vari strati che vengono attraversati, quello che ci interessa di più è il CA3. Perché? Se possiamo ridisporre questo ordine delle strutture attraversate dall'informazione, il CA3 ha una particolarità. Cioè il CA3, i neuroni piramidali eccitatori del CA3, non mandano solo alla stazione successiva, che è per l'appunto il CA1, ma mandano anche a se stessi. Cioè ciascun neurone CA3 manda, oltre che al CA1, manda anche a molti altri neuroni CA3 della sua stessa struttura, del suo stesso strato. Nella fattispecie ogni neurone manda a un numero spropositato di altri neuroni CA3 e si dice che quindi ciascuna piramidale CA3 manda al 5-10% di tutte le altre piramidali CA3. È una rete enorme, tra l'altro la distanza diciamo geografica, la distanza anatomica fra due neuroni non influenza o influenza pochissimo la probabilità che questi siano collegati. Quindi, che cos'è questa rete? Questa rete è come Facebook. Cioè tutti hanno l'amicizia con un sacco di persone e la distanza geografica fra due persone non influenza granché la probabilità che due persone abbiano l'amicizia. Quindi ricordatevi, l'ippocampo è come Facebook, è una rete enorme in cui tutti sono in contatto con tutto. Ma una rete di questo tipo ha delle proprietà decisamente peculiari. Innanzitutto si dice che è un hidden layer, perché lo vedete, il CA3 è una stazione di processamento indipendente in una sequenza ben precisa. Quindi è uno strato nascosto, è uno strato che processa l'informazione in serie con molti altri. E poi ovviamente è uno strato ricorrente perché i CA3 mandano a se stessi i piramidali CA3. È uno strato molto grande naturalmente e poi è random per quello, perché la geografia non condiziona la probabilità di avere dei collegamenti. Ma se noi facciamo una rete neurale artificiale in silico, in cui mettiamo queste quattro proprietà fra dei neuroni ipotetici in una rete appunto neurale, otteniamo che questa rete avrà un comportamento del tutto particolare. Infatti, io non ve lo posso dimostrare matematicamente, ma è possibile farlo. Si può dimostrare che una rete di questo tipo, che ha quelle proprietà che abbiamo visto, quando viene mandato come input degli enti, degli stimoli, che hanno delle differenze e delle somiglianze, questa rete, processandoli numerose volte, semplicemente ricaverà le somiglianze e le differenze fra questi stimoli. E questo si dice alla base della memoria, cioè noi ricordiamo facendo dei confronti fra gli stimoli e ci ricordiamo soprattutto le somiglianze e le differenze. Questo è il formato, se vogliamo, con cui la memoria viene immagazzinata nel nostro cervello. I nomi tecnici di questa operazione sono pattern separation e integration. La separation è semplicemente esaltare le differenze, quindi se due stimoli hanno una certa differenza nell'output, questa differenza sarà esacerbata al fine di poterla quantificare, in sostanza. Ugualmente la pattern integration è invece l'opposto, è l'esaltazione delle somiglianze, delle analogie, quindi se due stimoli sono simili in partenza, quando escono nell'output sono ancora più simili. E di nuovo, questo ha il significato di consentirci di trovare degli schemi nel mondo, negli stimoli da cui siamo circondati, e quindi di memorizzare meglio le informazioni sotto forma appunto di analogie fra stimoli attuali e precedenti. Però, come si è detto, l'ippocampo, per fare questa operazione, per poter produrre questo output, ha bisogno di processare molte, molte volte l'operazione. Un ricordo viene fissato nell'arco di 30 anni nella specie umana, un tempo enorme. E come mai? Perché all'interno del CA3, se ricordate, c'erano le connessioni fra i vari neuronici, il CA3, ecco. Queste connessioni ovviamente sono connessioni plastiche, quindi più sono utilizzate, più si potenziano. E questa naturalmente è la forma con cui viene salvata la memoria, sotto forma di connessioni più o meno potenti. Ebbene, ogni volta che un input viene passato molte volte nell'ippocampo, succede che l'output tende a diventare sempre più simile ad uno stato finale, quello che avrà raggiunto dopo numerose volte, che si chiama stato attrattore. Se vogliamo, è un po' come avere dei fiammiferi. Questi fiammiferi noi ogni volta ne spostiamo un paio. E alla fine dobbiamo ricreare un disegno. Il disegno finale è lo stato attrattore, quello in cui sono esaltate le somiglianze e le differenze fra gli stimoli. E qui sorge il problema. Vi ho detto, se noi simuliamo questo processo in silico, cioè nel computer, avviene la stessa cosa. Però ha bisogno di molti più cicli rispetto all'ippocampo. L'ippocampo, il nostro cervello, è una macchina straordinariamente efficiente. E quindi ci domandiamo cosa avrà in più questo ippocampo rispetto, per l'appunto, al computer. Ebbene, qui una risposta possibile è che l'ippocampo ha un comportamento del tutto peculiare, che è finalizzato a rendere estremamente efficiente questo meccanismo di plasticità. Questo comportamento si chiama Sharpo e Vrippo. In sostanza, abbiamo un network eccitatorio. È naturale che se i neuroni eccitatori eccitano altri neuroni eccitatori, tra l'altro in un numero esorbitante, naturalmente si avrà un fenomeno di popolazione. Basta accenderne uno, si accende tutto subito. Ecco, un fenomeno di popolazione. Il CA3 è di questo tipo, è appunto una rete ricorrente. Questo fenomeno di popolazione eccitatorio viene normalmente tenuto a bada dall'inibizione, ovviamente. Non c'è solo l'eccitazione, ci sono anche neuroni inibitori all'interno dell'ippocampo. Quindi normalmente questo fenomeno di popolazione non si scatena a causa di questa inibizione. Tuttavia ci sono delle oscillazioni fra l'eccitazione e l'inibizione. Quando stocasticamente l'eccitazione supera l'inibizione di una certa soglia, ecco che parte questa sharp wave ripple. Cioè l'eccitazione si attiva massicciamente e quando si è attivata subito l'istante dopo avrà il periodo rifrattario, quindi si spegnerà, non può rimanere costantemente in funzione. E quindi l'inibizione per rebound passerà a attivarsi lei massicciamente e si avrà un'alternanza quindi di un'eccitazione enorme con un'inibizione enorme. Questo fenomeno quindi è estremamente efficiente. Tra l'altro, quindi in base a quello che vi ho detto, per alzata di mano, secondo voi la sharp wave ripple, questo fenomeno qua ecco, è possibile riconoscere la sharp wave ripple se uno guarda un solo neurone? Per alzata di mano, chi dice di sì, chi dice di no? Bravissimi. Perché l'idea è proprio la sincronia. Il neurone non è che spaica, cioè che si attiva più spesso che prima, è semplicemente che tutti i neuroni eccitatori quando si attivano lo fanno contemporaneamente. È un'attivazione massiccia, un po' come, non so, i soldati che attraversano il ponte con il passo marziale e lo fanno crollare. È la stessa cosa, c'è un'attivazione massiccia. Quindi la tecnica che useremo per studiare questo fenomeno non sarà guardare un singolo neurone, sarà fare il local feel potential, si dice, cioè una tecnica che in sostanza prende il campo elettrico di una zona grande di più o meno 3 mm. Ecco, e quando faremo il local feel potential, quindi questa tecnica che prende una certa area, vedremo un'onda di questo tipo, perché i neuroni, semplicemente, i neuroni eccitatori si attivano tutti in contemporanea e i neuroni inibitori anche loro si attivano tutti in contemporanea, quindi di nuovo picchi molto grandi di eccitazione e picchi molto grandi di inibizione. Ecco, l'inizio è un meccanismo molto complicato e c'è un meccanismo di rebound, insomma, quando l'inibizione viene meno viene scatenata immediatamente la sharp wave ripple e ci sono anche dei meccanismi molto complessi che regolano il ritmo. Ecco, un'altra cosa. Vi ricordate il CA3, la struttura che aveva le interconnessioni fra i suoi neuroni? Ebbene, secondo voi, in base a quello che vi ho detto, ricordate, l'ippocampo in questo momento sta fissando i vostri ricordi. Le cellule CA3, quando si attivano in contemporanea? Si attivano tutte o ce n'è qualcuna che manca? Secondo voi, per alzare di mano, chi dice tutte? Pochi. Chi dice non tutte? Un po' di più, giusto la seconda. Perché? Se spaicassero tutte, la ripple perderebbe il contenuto. Vi ho detto, una connessione, e le nostre memorie sono delle connessioni fra i neuroni, una connessione viene potenziata quando si attiva molte volte. Se noi attivassimo tutte le connessioni, perderemo la memoria, naturalmente, perché avremmo un'attivazione generalizzata. Quindi la ripple perderebbe il contenuto, perderebbe l'informazione. E quindi ci chiediamo, come mai non tutte le cellule si attivano? Ebbene, il meccanismo è abbastanza complicato. A farla breve, è come se ci fosse una backpropagation, si chiama, cioè una connessione. Non sappiamo dove sia collocata anatomicamente questa connessione, ma in qualche modo l'informazione dal CA1 torna immediatamente al CA3, cioè fa il percorso contrario, con un percorso inibitorio, che alla fine è come se bloccasse alcune specifiche sinapsi dello strato CA3 in modo da mantenere il contenuto della ripple e potenziare per bene tutte le altre, in modo che quindi alcune, solo alcune delle connessioni del CA3 vengano potenziate, ma non tutte. Ed è questo che salvaguardia, quindi il contenuto. che salvaguardia il contenuto. Appunto, la collocazione atomica però non è nota. Altra cosa molto interessante è la frequenza. A spanne, secondo voi, qual è la frequenza massima che si riscontra fisiologicamente? Ad esempio facendo un elettroencefalogramma. Chi dice 2,5 Hz? 2,5 al secondo oscillazioni, per esempio. Nessuno? Chi dice 25 al secondo oscillazioni? Qualcuno? Chi dice 250 oscillazioni al secondo? Nel 2.500? Quasi tutti. No, 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 tutt'altro. Il cervello è una macchina che ha oscillazioni molto lente probabilmente, 25 è già tantissimo, 25 Hz. Salvo? Salvo nelle Sharpe & Ripples. Nelle Sharpe & Ripples si hanno delle oscillazioni pazzesche, a velocità sorprendenti, 140-200 Hz. È qualcosa al limite dell'epilessia. Cioè l'ippocampo è la struttura che ha, oltre a questa situazione massiccia, come i soldati sul ponte, anche una frequenza straordinariamente elevata, al limite appunto dell'epilessia. Quindi vedete che è una macchina straordinaria. Un'ultima, ecco, prima di accennare le applicazioni, secondo voi la memoria biologica, vi ho detto che viene fissata in due stadi, viene prima fissata temporaneamente, poi passa molte volte attraverso l'ippocampo e alla fine viene fissata definitivamente. Ma questo meccanismo ha due stadi. È qualcosa di contingente oppure è qualcosa che è intrinsecamente, ontologicamente racchiuso nel concetto di memoria biologica? Chi dice che è un caso specifico dell'essere umano, per alzata di mano? Chi dice che invece è intrinseca nella memoria biologica? Tutti. È giustissimo. È assolutamente intrinseca nella memoria biologica. E questo per una ragione molto semplice, vi ho detto, la memoria sta nelle connessioni fra neuroni. Le connessioni devono essere potenziate per accumulo di nuove proteine. Ma quando noi apprendiamo uno stimolo durante l'apprendimento, queste sinapsi naturalmente vengono, hanno uno stimolo ad essere potenziate. E quindi cosa dicono? Dicono al nucleo, al pirenoforo, al citoplasma della cellula, insomma, di produrre queste nuove proteine per potenziare la sinapsi. Però ci deve essere qualcuno che poi dice a queste proteine dove devono andare la produzione delle proteine, un paio di ore ci servono, ecco. E quindi chi è che dirà a queste proteine che intanto si stanno accumulando nel pirenoforo, nel citoplasma, a quale specifica sinapsi devono andare? È naturalmente l'ipocampo, è l'auto ipocampale che processando molte volte la memoria, stimolerà le stesse sinapsi e dirà a queste proteine da che parte, in quale sinapsi dovranno andare effettivamente a accumularsi. Quindi questo era un escurso su come funziona l'ipocampo, un brevissimo accenno a come potremmo sfruttarlo. Beh, abbiamo visto, l'ipocampo è una macchina che con questo meccanismo estremamente efficiente, con queste eccitazioni e inibizioni tutte in contemporanea, riesce a fare un'analisi delle somiglianze e delle differenze fra degli stimoli. Anche i nostri computer possono fare la stessa cosa, certo, però devono passare ciascun parametro uno per uno, ok? Ci mettono molto tempo per questo. L'ipocampo invece lo fa all'istante, semplicemente dopo che ha processato un numero fisso di volte di informazione, le somiglianze e le differenze sono già calcolate, già pronte per essere utilizzate, già elaborate. Quindi se noi processassimo ad esempio dei database, come possono essere database di casi clinici, con vari pazienti, i vari sintomi, i vari segni, potremmo confrontarli, mi mando naturalmente la struttura dell'ipocampo in silico, in maniera estremamente efficiente. Oppure anche, non so, un database di ricerca per esempio, abbiamo vari esperimenti con vari risultati e in sostanza quindi riusciremo appunto a confrontare questi stimoli in maniera estremamente efficiente. Insomma, in conclusione, vi lascio con questa perla di saggezza antica, il conosci te stesso, sul tempio di Apollo a Delphi. Potremmo fidarci di questa massima e applicarla anche al giorno d'oggi. Forse effettivamente studiando la macchina più complessa che conosciamo, potremmo imparare qualcosa. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Giulio De Angeli. Ho una domanda nello specifico per Giulio. Giulio, secondo te, l'utilizzo di un modello neurale dovrebbe essere implementato a livello di algoritmo, a livello di hardware? Dovremmo ripensare alle macchine che utilizziamo, piuttosto che qualsiasi altra idea tu abbia? Allora, vado con ordine. Parto dalla prima domanda. Allora, secondo me, essendo io quello positivista e con l'estremizzazione, vi devo parlare dei limiti, delle tecniche in silico. Ma secondo me i limiti nel mio settore neuroscienze e anche più in generale nella ricerca biomedica sono presto detti. Si basano su quello che è il core della scienza, cioè la sua ripetibilità. Quindi qualsiasi risultato in silico prodotto con queste tecniche complicate sì, per carità, può essere credibile dal punto di vista metodologico, ma rimarrà falso fintanto che non verrà provato dal punto di vista empirico, cioè dimostrato anche ai fatti. Vi posso portare anche diversi esempi. Io mi sono occupato di recente di microRNA, di Myrna. I microRNA sono sostanzialmente dei piccoli frammenti di acidi nucleici che inibiscono una serie di geni. La ricerca con approcci di questo tipo, con approcci su database, sono stati in grado, in base alla sequenza di questi acidi nucleici, di stabilire quali sono i geni target, cioè quali geni vengono inibiti da questi microRNA. Il problema è che l'anno scorso è uscito un paper in cui sono stati studiati questi microRNA con un approccio completamente diverso. In sostanza sono riusciti a vedere con un metodo di wet lab, ecco, biologico, quali effettivamente erano le regioni appaiate di questi microRNA sul gene, quindi cosa si attaccava e dunque inibiva. La scoperta è stata che noi abbiamo trovato sostanzialmente un quarto delle correlazioni e rimanevano un bel tre quarti che noi non avevamo proprio immaginato perché sono degli appaiamenti molto più complessi che chiedono una struttura terziaria e come tale non si possono individuare così in base alla sequenza primaria dell'acido nucleico, cioè alla sequenza delle basi. E questo è stato abbastanza, ecco, insomma, distruttivo in questo settore, come potete capire. Noi stavamo guardando un quarto della storia e magari anche meno, ecco, scopriremo in futuro. Quindi, una volta individuati con queste nuove tecniche biologiche, è ovvio che poi si può anche, in base al database, cercare di sviluppare delle tecniche con cui individuare anche questi qua nuovi. Ma alla fine la cassazione per la ricerca biomedica rimarrà l'esperimento, ecco, per cui dal punto di vista dei limiti direi che è presto detto. In effetti, fino a poco tempo fa, la biologia aveva questa forte limitazione, in un certo senso, cioè il fatto che doveva partire da un'ipotesi. Quindi il bravo scienziato era quello galileano, aveva la sua ipotesi, faceva la verifica sperimentale e concludeva se la sua ipotesi era vera o era falsa. Quello che è successo con questi nuovi approcci è stata l'era delle omiche. Le omiche sono, sapete, tutti quei neologismi, cioè il genoma, il trascrittoma, il proteoma, il mirnoma, ad esempio nel mio caso, cioè l'insieme dei database sull'acido nucleico della cellula, oppure sugli mRNA, sui mirna, eccetera, eccetera. E questo ha rivoluzionato proprio la mentalità dello scienziato, perché oggi oltre all'approccio classico, quello di avere l'ipotesi galileiana, è possibile quest'altro tipo di esperimento, che concettualmente è elementare, anzi direi imbarazzante tanto elementare. Cioè si parte senza ipotesi. Uno ha il database del proteoma e vuole cercare una proteina che abbia queste caratteristiche pensando che queste caratteristiche siano determinanti, un coinvolgimento in una determinata malattia. Uno non sa prima quale proteina può essere papabile di questo. Uno le cerca in tutte, ecco. E questo è assolutamente sconvolgente, ecco. Però va notato che sono solo strumenti. Sono strumenti che poi ci consentono in un secondo momento di formulare un'ipotesi e dunque di verificarla con il metodo classico. Quindi alla fine sono soltanto dei mezzi in più che abbiamo, che hanno senz'altro i loro limiti, ma è giusto sfruttarli tutti. Infatti sono esplose di recente, soprattutto questi approcci in silico. Un'altra cosa meravigliosa, un altro aspetto veramente prodigioso dell'insilico è che mentre nel laboratorio uno è soggetto a delle limitazioni in termini pratici, comprare i reagenti, questioni di budget, eccetera, e le tempistiche, ecco, le colture cellulari ad esempio hanno tutta una serie di tempistiche, loro nell'insilico tutto questo non c'è. Nell'insilico è una sensazione meravigliosa, almeno per me. Io amo profondamente l'ingegneria e la programmazione. È una sensazione meravigliosa le prime volte che uno si dedica a fare una ricerca in silico, perché l'unica limitazione è la propria testa, letteralmente. Non c'è da comprare macchinari da milioni di euro. Ognuno è la limitazione di se stesso, quindi dal punto di vista dell'esperienza diretta è una sensazione stupenda. Passo alla seconda domanda su come si possono implementare. Questo è molto interessante. E in effetti sono possibili anche qua sia implementazioni di tipo algoritmico, senza dubbio, che sono le modellizzazioni di fatto. Sia ci sono delle tecniche con cui si cerca di evitare proprio il computer, cioè di fare un circuito che esegua questo. E questo secondo me è molto interessante. Si chiama il cosiddetto approccio neuromorfo, cioè si imita il cervello. È molto interessante perché il neurone di fatto è una macchina analogica. È un po' analogica, un po' digitale, però decide se mandare questo potenziale d'azione, questo impulso, su un processo che è prettamente analogico. E questo mimarlo nel computer è difficilissimo perché è molto intensive dal punto di vista computazionale. Quindi senz'altro un approccio del futuro è quello di ritornare all'analogico neuromorfo, naturalmente come approccio di ricerca. Però al di là di questo, secondo me l'aspetto più sorprendente è il fatto che noi con questo tipo di ricerca possiamo letteralmente mimare come funziona la nostra testa in una macchina. Si arriva con questo tipo di ricerca, naturalmente io ho cercato di fare una presentazione divulgativa e quindi ho semplificato moltissimo, ma vi posso assicurare che il livello di conoscenza a cui si arriva è straordinario. Il livello proprio di comprensione del cervello che si arriva con questo tipo di studi lascia stare fatti. Sulla domanda della antropomorfizzazione e viceversa, vorrei solo tanto citare una citazione che mi è molto cara di Brecht, che dice è il frutto dell'albero della conoscenza. Ecco, lo azzanna subito, ma sarà dannato in eterno. Sa che sarà dannato in eterno, ma lo fa lo stesso, sciagurato viottone. Che è un po' quello che si diceva prima del metodo. Cioè noi abbiamo una serie, un arsenale di strumenti e cerchiamo di usarli tutti. È ovvio che alla fine vedremo quali funzionano. Direi di finire qui le domande.